Per l'amministrazione del tuo condominio rivolgiti a studio amico, competenza, sedetà e professionalità. Richiedi un preventivo ai numeri in sovrimpressione. Comincerà oggi la stagione 2016-2017 della Cavese. Se sarà di Serie D o di Lega Prolo si saprà soltanto il prossimo 4 di agosto, ma intanto questo pomeriggio alle ore 16 a Bracigliano un primo gruppo di calciatori si ritroverà con il tecnico Emilio Longo su un campo di gioco a correre e a sudare. La prima lista ufficiale che la società di Via Vittorio Veneto diramerà nel primo pomeriggio sarà composta da tanti giovani e qualche over del passato torneo. Un gruppo ristretto al quale, col passare dei giorni, si uniranno altre pedine in attesa dei primi giorni del prossimo mese, quando dal Consiglio federale arriveranno notizie definitive sul campionato a cui parteciperà la squadra bianco-blu. Lavora per la Lega Pro il presidente Domenico Campitiello. I segnali vanno tutti verso quella direzione. Nelle stanze dei Bottoni il patrono della IOMI prepara la documentazione da inviare alla Lega di Firenze entro il prossimo 26 di luglio. Sul mercato, con il supporto del direttore sportivo Inpector e Vincenzo Cosa, si muove a caccia dei profili giusti per il torneo professionistico. Alcuni dovrebbero essere presenti già nel gruppo che oggi si radunerà a Bracigliano. Il portiere Iuliano, il difensore Migliaccio, il centrocampista Rossi, la punta Murano. I nomi che Radiomercato ha ufficiosamente accostato alla Cavese nelle scorse settimane dovrebbero tutti rientrare nella prima lista dei convocati. Con nessuno di loro, tuttavia, sarà messo nero su bianco prima del 4 agosto. Il ripescaggio in Lega Pro, tuttavia, col passare delle ore, sembra essere sempre più probabile. Le decisioni del Consiglio federale di ieri pomeriggio, con la bocciatura pure della Paganese, dopo quelle del Rimini, del Pavia, dello Sporting Bellinzago, del Martina Franca e del Lanciano, hanno creato un clima di ulteriore fiducia in città. Sono 12 al momento i club da ripescare per comporre una Lega Pro a 60 squadre. Al posto del Bellinzago dovrebbe essere ammessa la Caronnese, che però sembra orientata a rinunciare e a lasciare spazio al campo d'Arsego. Per il resto tutto è ancora da decidere e molto dipenderà dal numero e dalla qualità delle istanze di ripescaggio che arriveranno entro le ore 19 del 26 luglio. La Cavese però ha i numeri e le credenziali societarie per avanzare la propria candidatura. Ci crede Campitiello, ci spera la città, che conta di ritrovare il professionismo dopo cinque anni di assenza.